Eh? Non capisco niente. 6 a 1. 6 a 1 per la Dinamo contro i ragazzi dei Furious. Punteggio che la dice lunga sul match che stiamo vedendo. Cappacolella davvero un protagonista atteso di questa gara. Un nuovo acquisto dei ragazzi della Dinamo. Ha fatto vedere grandi numeri. Probabile convocato per la partita della Nazionale della Serie D di domani. Ricordiamo Serie D di scena. Con i migliori giocatori di questo torneo. Nel frattempo numero in mezzo a 4. Il numero 10 della Dinamo che si prende anche un fallo sacrosanto. Seguiamo questo calcio di punizione. L'ottima posizione. La Skycam dal campo. Attenzione. Siamo posizionali esattamente dietro. Eh? Questo è un'ottima posizione. Uno schema. Si rovina tutto. Brutta idea questo schema. C'è la Skycam in mezzo al campo. Abbiamo anche i microfoni vicino alla bandierina. Attenzione. Ci vengono addosso. Parte il destro. Palla fuori. Bella occasione. Vediamo se parte il contropiede. Palla gettata in avanti. Ancora difesa della Dinamo. Spazza. Palla viene messa in calcio d'angolo. Rimessa laterale. Vediamo quest'ultima azione. Cappacolella. Prova ad andare. Serie di finte. Palla all'indietro. Allargata. Il numero 3 della Dinamo ci prova. Pallone che viene intercettato. E c'è un clamoroso gol. Gol del 7 a 1. Portiere netto ritardo. E interrompiamo di qui il nostro collegamento.